Buonasera, buonasera amici, è finita questa giornata, questa giornata degli anticipi. Bene, come bisogna commentarli? Bah, diciamo che in sostanza possiamo dire tutto come previsto, perché se uno guarda i risultati, vede Inter Udinese 1-0, bene, Torino-Juve 0-1, bene. Ma le cose non sono andate prettamente così, partiamo dalla coda, ovvero da Torino-Juve 0-1, è una partita che mi sono visto, però si sapeva che la Juve è cinica, dopo un primo tempo in cui il Torino ha dominato e anche un secondo tempo in cui il Torino ha giocato benissimo, Belotti ha fatto di tutto e di più, sono state sprecate tante occasioni, la Juve La Juve è cinica, a un certo punto su uno svarione di zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz indietro e il postiere in ritardo, fa il calcio di rigore e quindi 0-1 finisce praticamente la partita. Per quanto riguarda l'anticipo della nostra beniamata Inter, che vi devo dire? Ci sono aspetti positivi, l'aspetto positivo è il risultato, sono i tre punti, diciamo anche il gioco, la manovra, la cosa bella è che tutti stanno facendo i complimenti ai carti che sono un paio di partite che non è più abulico lì davanti all'attacco, ma partecipa alla manovra, smissa i palloni eccetera eccetera e quindi tutto sommato giudizi positivi, ma c'è un neo che è quello che la manovra comunque è asfittica, cioè si produce parecchio gioco a centrocampo nel giropalla, però manca un po' di finalizzazione, perché? Perché in effetti un po' i carti magari un po' meno lucido, perché cose di più, gli inserimenti dei centrocampisti non ci sono, ha provato a farlo ad esempio spesso Boccavalero oggi che ha ciabattato in due o tre occasioni praticamente in una maniera da sfiorare il gol, ma da sprecarlo in una maniera veramente ridicola, Gio Mario è stato prezioso, molto pulito, molto elegante, anche se in ultimo dico io, negli ultimi minuti ha rischiato qualcosa, bisogna anche sapere che in alcuni momenti quando gli avversari lanciano il cappello per aria, come si dice, bisogna allora posare il fioretto e cacciare la sciabola e quindi lottare con la vehemenza, con l'ardore e con la forza, perché in effetti non ci si può permettere altro. E quindi bisogna migliorare questo aspetto del gioco, della finalizzazione, noi non abbiamo il trequartista che inventa e questo è un limite che noi cercheremo a gennaio magari o Marotta, insomma qualcuno che ci possa aiutare a gennaio a prendere almeno un buon giocatore di centrocampo e l'altra bella notizia è Nangolan che ha fatto gli ultimi minuti, quindi diciamo che è guarita e si spera, si spera vivamente che non abbia più queste ricadute, quindi di vedere il miglior Nangolan fino a dicembre, gennaio, perché vedete, sembra una cosa da poco, ma il nostro, sulla carta, insomma teoricamente il nostro miglior acquisto quest'estate era stato proprio il signor Ninja Nangolan, quindi che poi non l'abbiamo praticamente mai avuto, non è una cosa da poco, quindi ci prendiamo i tre punti, il gioco buono, vittoria striminzita, ma consolidiamo il terzo posto in attesa delle partite di domani e quindi vediamo un poco, domani pure ci sono delle partite molto molto interessanti, perché c'è un, diciamo il Napoli è chiamato a Cagliari, quindi non è una partita facilissima, Sampdoria-Palma c'è anche un interessante Roma-Genova. Ne parleremo domani in serata, ciao a tutti, grazie.